Mentre Donald Trump e Kim Jong-un si rendevano protagonisti di una giornata storica con una stretta di mano a Singapore, nelle stesse ore, a 3.000 chilometri di distanza, è stato inaugurato a Taiwan il nuovo ufficio di rappresentanza degli Stati Uniti. Si tratta di una ambasciata di fatto, costruita per rinsaldare le relazioni tra Washington e Taipei, una apertura che rischia tuttavia di aumentare ancora di più la tensione fra Pechino e Taipei. In qualità di democrazia libere e aperte abbiamo il dovere di difendere i nostri valori e gli interessi reciproci, finché saremo uniti niente potrà frapporsi tra di noi, ha dichiarato il presidente di Taiwan Tsai Ing-wen nel corso dell'inaugurazione. L'edificio ospiterà l'American Institute of Taiwan, incaricato di condurre le relazioni bilaterali dopo la fine dei rapporti diplomatici formali nel 1979. Solitamente pronta a reagire con dichiarazioni minacciose a qualsiasi iniziativa che veda protagonista un rivale, come nel caso di Taiwan, questa volta Pechino ha scelto la via del silenzio, almeno per ora.